Anziani nel mirino di spietati truffatori. Il modus operandi è sempre lo stesso. Da nord a sud Italia, bande di malviventi si fingono avvocati dei familiari delle anziane vittime e spillano loro soldi prima di darsi alla fuga. È successo anche a Bisaccia, dove un anziano è stato contattato da un uomo che, speciandosi per suo figlio, ha chiesto aiuto economico per aver provocato un incidente stradale. Dopo la chiamata, un falso avvocato è arrivato in casa dell'anziano padre, sottraendogli 160 euro e degli oggetti d'oro. Le vittime sono spesso anziani soli ed è per questo che i carabinieri del comando provinciale di Avellino ricordano i consigli dell'iniziativa Difenditi dalle truffe. Queste le regole d'oro. Non aprire agli sconosciuti anche se si presentano come avvocati, amici, forze dell'ordine. Prestare attenzione se qualcuno telefona e chiede del denaro o preziosi per pagare cauzioni, spese, debiti per conto di un parente. In questi casi i carabinieri consigliano di rinviare l'appuntamento e contattare il familiare interessato, segnalando immediatamente ogni situazione sospetta al 112 o al più vicino comando.